GALIC GALIC, israeliano, identico al Kalashnikov, proiettili da 5,56, caricatori da 35, spara 750 corpi al minuto, è pulito. Questo invece è un FAMAS G12, 950 corpi al minuto. Che c'è? Qualcosa non va? No, no, è che pensavo qualcosa di più piccolo. Maneggevole. Piccolo e maneggevole, un po' rumoroso e 300 te riempio pure di munizioni.